1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 Siamo dietro al palco del Rione San Giuseppe in questo momento si è conclusa la seconda edizione del concorso Montesina 2017 io mi trovo con la nuova vincitrice Francesca Mancino Francesca, allora le emozioni di questa serata? Sicuramente è un'emozione molto forte anche perché indossando questo vestito colgo questa sera l'opportunità per un anno intero di riportare un po' alla luce nel mio piccolo i valori di Montediprocida quindi riportare alla luce le sue origini per non dimenticarci mai da dove veniamo Brava Francesca allora noi rivedremo Francesca sulle scene di Montediprocida perché l'impegno della Montesina come sappiamo è di presenziare tutti gli avvenimenti di Montediprocida Francesca poi c'è un bellissimo premio tu sai questa collana che comunque è un pezzo unico lo porterai nel cuore e quale ricordo porterai di questa serata? sicuramente il divertimento che c'è stato dietro tutto ciò con tutte le altre ragazze e soprattutto Pino, Imma e Antonella tre persone veramente fantastiche e noi invece ti porteremo nel cuore oltre Francesca anche le altre ragazze vi aspettiamo l'anno prossimo per la terza edizione un abbraccio a tutta Montediprocida e tutti gli amici che si seguono buona serata a tutti